Salve a tutti signori e ben ritrovati in questo nuovo video, allarme e paura allo stesso tempo per Bandanara che è praticamente stata ricoverata in maniera anche urgente a causa di forti dolori addominali, ovviamente adesso stanno indagando sul caso, ma Icardi ovviamente di conseguenza sta in ansia. Salta anche la prevista vacanza che c'era proprio nel nostro paese. Tutto questo è successo nella notte tra mercoledì e giovedì e a causa di questo imprevisto la conduttrice di Masterchef Argentina e suo marito sono stati costretti a rinviare totalmente tutto quello che avevano prestabilito e quindi il piacere di stare in Italia anche. La modella influencer, che due giorni prima di accusare il malore aveva presenziato ai Martin Fierro Awards, dove era stata premiata per il suo ruolo nel programma Aquienes la Mascara al di Telefe, è stata trasportata all'ospedale de Los Arcos, nel barrio de Palermo di Buenos Aires. Sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, da quanto si apprende sarebbe stata dimessa dopo 24 ore. Bisogna però evidenziare che nella diretta interessata nell'ospedale hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle condizioni di salute di Lady Icardi. L'account Gossipeame, informatissimo su tutto ciò che riguarda il mondo dello showbiz, ha fatto sapere che Icardi, ex attaccante di Sampdori e Inter ora in forza al Galatasaray, era molto preoccupato per la moglie. Lunedì prossimo i due sarebbero dovuti volare a Milano, dove hanno ancora casa, per trascorrere una vacanza italiana insieme ai figli. Ma il viaggio è stato rimandato a data da destinarsi, l'unico pensiero di Maurito, nonostante il burrascoso rapporto con la consorte, è che Vandanaara si rimetta al più presto. Intervenuto ai microfoni del Ventura Show, in onda su Radio del Plata, il papà di Vandanaara, Andres, ha riferito che alla figlia non è successo nulla di grave. Poi ha spiegato che non avendo rapporti con Mauro né con la madre della showgirl, ho deciso di recarmi direttamente in ospedale per avere informazioni, ma mia figlia già non c'era più. Anche la giornalista Laura Ulfa l'ha assicurato che l'imprenditrice è in buona salute. Ma su ciò che è davvero successo vige ancora il massimo riservo. Fresco campione di Turchia, per Icardi nessun trasferimento in Italia. Il trentenne attaccante argentino è infatti destinato a restare a Istanbul ed è intenzionato a segnare il suo gol più importante, convincere mogli e figli a raggiungerlo nella metropoli turca. Per motivi di lavoro, la vita di Vandanaara è legata all'Argentina, Maurito riuscirà a farle cambiare idea? Le riviste di gossip sono già pronte a versare fiumi d'inchiostro. Del resto, gli Icardi, con i loro continui tira e molla rigorosamente documentati dai social sanno fin troppo bene come tenere alta l'attenzione sul loro rapporto. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.